Ciao a tutti, purtroppo non ho avuto la possibilità di visitare direttamente il vostro paese, l'Armenia, però ho avuto una bellissima esperienza con delle persone che ho trovato, che ho incontrato, degli armeni che a Firenze, nella mia città, mi hanno portato ad assaggiare e a provare un buonissimo ristorante in cui ho potuto sperimentare tutte le prelibatezze della vostra cucina. Ed erano onestamente buonissime. Parola italiano. Ciao. Nel tempo, abbiamo avuto la fortuna di ospitare nel nostro B&B in costiera sorrentino-Malfitana delle splendide persone armene. E questa nazione, con il suo popolo, è entrata nei nostri cuori. Dalle nostre parti si dice che solo nella tempesta si riconoscono i veri marinai. Gli armeni hanno vissuto tante tempeste e sempre hanno dimostrato di essere un grande popolo. Saluti dall'Italia. A presto. Grazie al popolo di Armenia per la sua storia, per la sua cultura, per quello che è trasmesso al mondo, per la libertà che sempre porta avanti dalla rivoluzione del XVII fino a doggi. Armēnie mani, mani atmiņās, ir palikusi kā brīnišķīga valsts, ar lielsku klimatu. Ļoti skaistu dabu, ir tā vērts izbrīvēt viendien un vienkārši uzskāpt kalnos, jo skats ir neizmirstams. Bagātu kultūru, kā arī brīnišķīgiem cilvēkiem, kas veicina jau pa gabalu, paprasa kāta vieta. Grazie a tutti, sono Wilber Martínez, e mi piace Armenia per la sua gente, per la sua hermosa gente, che è così carissima e gentile. I got in touch with the Armenian culture in an international projects in a youth exchange in Italy, where I met five amazing Armenians, and it was possible to share cultures, so I discovered more about Armenia, about the food, its people, and I cannot wait to go. I just know that it's a beautiful, beautiful place with beautiful, beautiful people, very ancient cultures, so soon in Armenia. Minasan, konnichiwa. Tokyō kara Higuchi Shoichi to mōshimasu. Armeniā no yoi tokoro, so rewa, mizu wa hóofu na koto desu. Šuto, Elevan, ni wa, auk no waki mizu ga afu, re, wain wa mochiron, gohahan mo oishii, to temo sikina pašo desu. Ciao, sono Karla, e sono italiana. Purtroppo non ho mai avuto la fortuna di essere in Armenia, ma ho conosciuto tante persone armene, e sono tanto ospitali, e ti fanno sentire parte della loro famiglia. Spero di avere un giorno la fortuna di andare in Armenia, perché se è bella come le persone che ho conosciuto, allora merita veramente. Hello, I am Arianna and I come from Italy. I love Armenia because some of the sweetest people I have met in my life come from Armenia. Armenia is beauty, sweetness, elegance, and love. I love Armenia, I am a�, ma ho conosciuto, I am a Ani, ma ho conosciuto, i am a man so, 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 i no ma so, i am a man so. Grazie a tutti. Grazie a tutti.